Rapina e manca a Cammarata, portati via 35 mila euro, indagano i carabinieri. Spazio di droga, 18 indagati nel Nisseno, attenzioni della polizia puntate su oltre 400 episodi sospetti. Quarto policlinico universitario, dopo Annalisa Petitto, anche Michele Doro e Marina Mancuso chiedono la convocazione urgente del Consiglio Comunale. Carenza di loculi al cimitero Angeli, la nota del Comitato Santa Croce, risponde l'assessore comunale Cettina Andaloro. PD, parla il nuovo segretario provinciale, Renzo Bufalino. Ben trovati in studio con l'edizione di oggi del telegiornale, apriamo parlando di cronaca. Rapina e manca a Cammarata, portati via 35 mila euro, indagano i carabinieri. Questa mattina quattro uomini, due dei quali con il volto travisato, hanno messo a segno una rapina a Cammarata in provincia di Agrigento. In particolare, quattro rapinatori hanno preso di mira il credito cooperativo San Biagio di Largo dei Pini. Secondo una prima ricostruzione, i rapinatori non armati avrebbero fatto irruzione all'interno dell'istituto di credito e avrebbero minacciato gli impiegati presenti. Complessivamente sarebbero stati rubati, ma il conteggio è ancora in corso, 35 mila euro. I quattro uomini sarebbero riusciti a scappare a bordo di una lancia Ypsilon. Scattato l'allarme, al credito cooperativo San Biagio di Cammarata, sono tempestivamente arrivati i carabinieri della locale compagnia. I militari dell'arma hanno avviato subito le ricerche sia nel territorio montano, sia lungo la statale Agrigento Palermo. Successivamente verranno acquisiti i filmati degli impianti di videosorveglianza, che potrebbero aiutare significativamente l'attività investigativa. E ancora cronaca, spaccio di droga, attenzioni della Polizia puntate su oltre 400 episodi sospetti. I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Niscemi, a seguito di indagini dirette e coordinate della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, hanno notificato l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari a carico di 18 persone indagate a vario titolo, in ordine al reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini, condotte dalla squadra investigativa del Commissariato su delega della Procura della Repubblica, iniziate nel novembre del 2019, si sono concluse nel mese di aprile del 2020. Sono state supportate da attività tecniche di intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché da riprese video e hanno permesso di accertare la realizzazione di oltre 400 episodi di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con l'aggravante per gli indagati di aver consegnato la sostanza stupefacente anche a soggetti minorenni, eseguite da un noto soggetto niscemese gravato da diversi precedenti penali. Nel corso delle indagini, i poliziotti hanno sequestrato oltre 100 grammi di cocaina. Arrestato in flagranza un pusher niscemese, è riscontrato decine di cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con altrettanti segnalazioni alla Prefettura a carico degli acquirenti consumatori. La cessione dello stupefacente documentata dagli agendi del Commissariato sarebbe avvenuta secondo un modus operandi collaudato. Lo spacciatore condattava gli acquirenti che presso la sua abitazione gli consegnavano la somma di denaro e successivamente ritiravano la dose di cocaina sul davanzale di una finestra ubicata a piano terra. In altri casi, lo spacciatore, dopo aver preso i soldi, lanciava la cocaina direttamente all'interno dell'abitacolo dell'autovettura dell'assuntore in transito. E cambiamo argomento, parliamo del quarto policlinico universitario. Dopo Annalisa Petitto, anche Michele Doro e Marina Mancuso chiedono la convocazione urgente del Consiglio Comunale. La tematica sul policlinico tiene sempre banco. Dopo la proposta del consigliere comunale Annalisa Petitto di convocare un consiglio comunale straordinario sul tema, stamani arriva anche la proposta del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle di convocazione urgente del Consiglio Comunale monotematico sul Policlinico Universitario Siciliano aperto a tutti. Abbiamo ascoltato il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Marina Mancuso. Abbiamo presentato stamattina una richiesta di convocazione urgente di un Consiglio Comunale monotematico aperto, proprio avendo ad oggetto la tematica del nuovo policlinico universitario siciliano. È infatti notizia dei giorni scorsi che la Regione Siciliana abbia deliberato proprio l'istituzione del quarto policlinico siciliano. E allora ci sembra doveroso ma anche urgente che ci sia un confronto tra la comunità nissena e tutte le istituzioni politiche che possono in qualche modo essere chiamate a pronunciarsi su questa importante tematica. Ecco che quindi abbiamo pensato di proporre all'interno della richiesta l'invito per il Presidente della Regione Sicilia, per l'assessore regionale alla sanità, l'assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale e anche il Dottore Caltagirone nella qualità di commissario straordinario dell'ASPE di Caltanissetta. Tutta la deputazione regionale e nazionale della nostra provincia ed anche il Presidente della Commissione regionale Sanità, naturalmente oltre al Sindaco e alla nostra giunta comunale. In questa maniera speriamo di sollevare a gran voce l'esigenza che questo policlinico sorga nel territorio e in particolare nella città di Caltanissetta, la quale è sede di un DEA di secondo livello, condizione imprescindibile per poter effettivamente ospitare un policlinico universitario. Ci sono poi tante altre ragioni di cui si parlerà chiaramente nel corso del Consiglio che legittimano questa richiesta. Carenza di loculi al cimitero Angeli. Una nota del Comitato Santa Croce risponde l'assessore comunale Cettina Andaloro. Con una nota, il Comitato di Quartiere Badia Santa Croce pone l'attenzione sul problema della carenza di loculi al cimitero Angeli. Risponde l'assessore comunale competente Cettina Andaloro. Più che di servizio io parlerei di un momento di difficoltà degli uffici. è vero, dobbiamo appaltare i nuovi loculi comunali, ma non è stata una mancata sensibilità verso questa particolare situazione. È successo che quasi per un anno ci siamo ritrovati in una situazione al di là della nostra volontà, devo dire, per privacy non dico cosa, però devo dire che non è stata tutta colpa degli uffici. Adesso finalmente stiamo arrivando al prologo di questa situazione. Abbiamo affidato, a fine mese si procederà alla nuova costruzione di questi nuovi loculi comunali, saranno 370 mi pare, e faremo anche per questa volta il bando per l'affido di questi loculi comunali. Abbiamo già affidato, abbiamo incaricato il direttore dei lavori, abbiamo affidato la gara alla ditta Deg di Capodici di Mussomeli, che ha già acquistato la gabbia per i pali, per le fondamenta, i prefabbricati per costruire loculi. Quindi a breve, penso entro fino a mese, affidiamo i lavori e si procederà all'esecuzione di questa costruzione. Prendiamoci cura di Caltanissetta, un'iniziativa per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. La Dasti, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, ha lanciato il progetto Prendiamoci cura di Caltanissetta, insieme per il futuro della città. Il progetto mira a creare una comunità di cittadini attivi per il futuro della città e responsabili della buona riuscita di una raccolta differenziata di qualità e nella promozione della sensibilità. L'obiettivo è quello di migliorare la situazione dell'abbandono rifiuti, il problema molto sentito nel centro storico di Caltanissetta, e aiutare il senso di appartenenza e integrazione dei migranti presenti nel territorio. La raccolta differenziata è importante perché consente di limitare lo sfruttamento del territorio, riduce i rifiuti da smaltire, mantenendo più pulita la nostra città e permette un risparmio energetico. Dasti è l'azienda che si occupa della raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Caltanissetta e realizzerà nei prossimi mesi una serie di visite a domicilio presso le residenze dei cittadini migranti. Un mediatore culturale li incontrerà per supportarli e fornire loro tutte le informazioni. Le visite previste sono 400 e verranno realizzate da due mediatori culturali nelle zone del centro storico. Nello specifico i quartieri identificati sono Provvidenza, San Domenico Angeli, Santa Croce Badia, Strada Foglia e San Galogero. A liceo Ruggero VII si è tenuto un incontro con il professore Giuseppe Giglia, docente di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata dell'Università di Palermo, nonché uno dei ricercatori più stimati sia a livello nazionale che internazionale. Ex alunno della scuola, ritornato al liceo come docente, ha voluto sottolineare il valore degli studi classici e umanistici all'interno di un percorso scientifico. Si legge in una nota, non a casa è partito da Cartesio per continuare con diversi rimandi alla filosofia, all'arte, al cinema e alla cultura classica all'interno della sua lezio magistralis. Parliamo del Partito Democratico, sentiamo le parole del nuovo segretario provinciale Renzo Bufalino. E' stato eletto il nuovo segretario della Federazione Provinciale del Partito Democratico di Caltanissetta, si tratta di Renzo Bufalino, sindaco di Montedore, vice segretario regionale del PD Sicilia. Nei giorni scorsi impatti durante l'assemblea svoltasi presso l'Istituto Testa Secca, presieduta da Massimo Arena in presenza del vice segretario nazionale Peppe Provenzano, Renzo Bufalino è stato eletto per acclamazione. Non mi aspettavo questa nomina, però siccome c'è stato un momento di difficoltà e indubbio negare nel Partito Democratico anche nella nostra provincia, nel momento in cui gran parte dei dirigenti del partito hanno chiesto la mia disponibilità, ho ritenuto opportuno non tirarmi indietro e caricarmi di questa enorme responsabilità perché comprendo bene che è necessario rimettere in moto e in piedi un partito che sta attraversando un momento particolarmente delicato, ma qui sono sicuro dovremmo uscirne a testa alta. Alcuni circoli hanno anche proceduto l'elezione dei segretari di circolo, in caso di Caltanissetta Giancarlo Larocca è stato riconfermato segretario di circolo. Alcuni circoli hanno rinnovato i propri segretari, ma la maggior parte ha lasciato la dirigenza in carica. Si pensa anche alle prossime elezioni amministrative. Nel 2024 si voterà in due luoghi più importanti della nostra provincia, Caltanissetta e Gela. Io penso che il Partito Democratico debba esserci, debba esserci con una propria offerta politica e deve fare in modo di essere riconosciuto dagli elettori, considero che in questi anni siamo stati spesso tacciati di essere lontani dai simpatizzanti e dal nostro elettorato. Uno dei temi sui quali pone l'attenzione è quello del mondo del lavoro. Noi vogliamo essere anche più vicini. Come primo atto, non casuale, ho voluto portare un mazzo di fiori al cimitero dei Carusi. L'ho fatto perché ritengo che sia doveroso non soltanto ricordare il nostro passato minerario, ma anche per ricordare i morti sul lavoro perché il lavoro e il lavoro buono deve essere il punto di riferimento delle politiche del Partito Democratico. E il lavoro è uno dei temi chiave di questa provincia che da troppo tempo è martogliata. Ci dà serenità a prendere dall'assessore regionale dell'agricoltura Luca San Martino che in Sicilia gli operatori a tempo determinato dell'ente sviluppo agricolo verranno avviati per la campagna di meccanizzazione agricola a partire dal 6 marzo 2023. Purtuttavia, come organizzazione sindacale chiediamo che a questa data vengano avviati anche tutti gli operai a tempo determinato dei consorsi di bonifica e tutti gli operai a tempo determinato dei forestali. La dichiarazione di Ernesto Abbate, segretario nazionale del Sifus Confali per i consorsi di bonifica, il quale aggiunge In Sicilia abbiamo assistito a disastri annunciati come quelli vissuti nei giorni 8 e 9 febbraio scorsi nell'area orientale dell'isola. Tali eventi dimostrano come non ci siano più stagioni e come gli operatori della sicurezza del territorio non possono più essere legati a contratti di natura stagionale. Dopo il 7.30 precompilato, disponibile per i dipendenti e pensionati arrivano nuove semplificazioni fiscali anche per le partite IVA. Da oggi, 15 febbraio, le imprese e i professionisti potranno modificare, integrare e inviare il modello con i dati relativi all'anno di imposta 2022 che sono stati inseriti dall'Agenzia delle Entrate e che già da qualche giorno era possibile visualizzare e scaricare. Arriva infatti la dichiarazione IVA precompilata. Con la realizzazione della precompilata IVA, l'Agenzia delle Entrate contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si legge nel comunicato dell'Agenzia delle Entrate, per semplificare gli adempimenti di imprese e professionisti, la cui deadline è fissata per il mese di giugno 2023. L'introduzione di questo nuovo servizio, afferma il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, si legge ancora, è un supporto concreto che l'Agenzia mette a disposizione di una significativa platea del tessuto economico e produttivo in un'ottica di trasparenza e collaborazione. Un sistema fiscale più semplice e che funziona meglio. È un investimento non solo per il sistema paese, ma anche per le prossime generazioni. È possibile dunque calcolare, pagare l'imposto, stampare l'F24 e ancora inviare una dichiarazione correttiva o integrativa attraverso il portale Fatture e Corrispettivi, dove bisognerà accedere con le proprie credenziali nell'apposita sezione dedicata. E i dati possono anche essere importati nei propri sistemi per metterli a confronto con quelli nei propri database. Per tutte le informazioni, si precisa ancora nel comunicato, sulle nuove funzionalità è possibile consultare la sezione informativa e di assistenza dedicata ai documenti IVA precompilati disponibile sempre all'interno del portale. Il servizio si rivolge ad imprese e lavoratori autonomi che fanno parte di una precisa platea stabilita secondo i provvedimenti dell'8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023. Per l'elaborazione della bozza della dichiarazione IVA vengono utilizzati i dati dei registri IVA precompilati, anche se non validati, i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente, la dichiarazione dell'anno precedente e le informazioni in anagrafe tributaria. Mercoledì 22 l'Assemblea regionale siciliana si riunirà per un dibattito d'aula sull'autonomia differenziata. La richiesta di convocare un'apposita seduta su questo tema era stata avanzata nei giorni scorsi dal capogruppo del PD Michele Catanzaro. L'autonomia differenziata, così come qualcuno l'immagina, dice Catanzaro, rischia di amplificare le distanze tra le aree del paese e di porre la Sicilia in una condizione di ulteriore difficoltà. Per questo abbiamo chiesto un dibattito d'aula e ringrazio il presidente dell'ARS Gaetano Galbagno che ha accolto la nostra proposta. E adesso, caro Voli, nuovo vettore nei collegamenti con Roma. Sentiamo i dettagli nel servizio. Una nuova compagnia aerea collegherà la Sicilia con alcuni dei principali aeroporti italiani. Un'iniziativa resa possibile recita la nota sul sito ufficiale della Regione Sicilia grazie all'intervento del presidente della Regione Renato Schifani che fin dall'inizio del suo mandato ha posto il tema del caro Voli nell'agenda politica del suo governo. Il nuovo vettore che avvierà i collegamenti tra qualche settimana è AeroItalia, compagnia italiana a capitale interamente privato. Le nuove rotte sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d'Orleanse in cui erano presenti, fra gli altri, il presidente Schifani, l'assessore all'infrastruttura Alessandro Arricò, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l'amministratore delegato della compagnia Gaetano Francesco Intreri insieme a Giovanni Gardini, amministratore delegato del Palermo Calcio che si avvale dei voli charter per i viaggi della squadra verso il continente. Oggi, è evidenziato Schifani, è una bella giornata per tutti i siciliani perché interrompiamo il duopolio che porta in alcuni periodi dell'anno all'aumento spropositato dei costi dei voli tra la Sicilia e principali aeroporti italiani. Abbiamo lavorato in silenzio nell'esclusivo interesse dei nostri concittadini e oggi c'è una parziale ma significativa soluzione. Speriamo che altri vettori possano seguire l'esempio di AeroItalia. Abbiamo salutato con particolare favore questa iniziativa, ha aggiunto il sindaco Lagalla perché il caro voli continua a incidere negativamente sui flussi turistici diretti su Palermo che però, nonostante la crisi economica degli ultimi anni, continuano a crescere segnando buoni margini di miglioramento. AeroItalia ha iniziato l'attività nel luglio dello scorso anno operando con voli charter, oggi collega a destinazioni italiane ed europee. Real Maestranza, tempo di primi appuntamenti, il 22 febbraio ci sarà la Santa Messa delle Ceneri. Cominciano tra poco più di una settimana i primi appuntamenti per la Real Maestranza secondo il programma della Settimana Santa 2023. L'associazione infatti sarà presente in cattedrale il 22 febbraio per la Santa Messa delle Ceneri e sempre nella chiesa Santa Maria la Nova il 25 febbraio verrà celebrato il primo sabbatino di Quaresima dedicato all'Immacolata Concezione. Grande attesa per la cerimonia del passaggio di consegne nel Teatro Regina Margherita domenica 26 febbraio alle ore 9.30 le cariche capitanali entranti della categoria idraulici e lattonieri con i tamburi si daranno appuntamento davanti alla chiesa di Santa Croce, mentre quelli uscenti della categoria panificatori, pasticceri e cuochi sempre con i tamburi insieme ai rappresentanti dell'associazione, dei capitani emeriti, dei cerimonieri e delle altre categorie davanti alla chiesa di Santa Lucia. Tutti insieme poi in corteo si sposteranno nell'atrio del palazzo municipale e lì incontreranno il sindaco e le autorità comunali. Il corteo poi si sposterà in teatro per il passaggio delle consegne e la cerimonia si chiuderà con il saluto del neo capitano della Real Mestranza per il 2023, il maestro Giuseppe Mangione. Il suo sabbatino, nonché il secondo, cioè quello del capitano, il 4 marzo, dedicato alla Madonna della Provvidenza, comincerà con una riunione di tutte le categorie nella chiesa di San Giuseppe per un momento di preghiera e benedizione delle bandiere, per poi arrivare in cattedrale per il passaggio delle cariche delle dieci categorie, cioè portabandiera, labbardiere e portabaldacchino. Subito dopo la Santa Messa, previsti i fuochi pirotecnici. Il giorno successivo, 5 marzo, le 19, la chiesa di San Giuseppe ospiterà l'undicesima rassegna sulla letteratura musicale della Settimana Santa, in memoria di Giuseppe Portoleva. Il 15 marzo le associazioni protagoniste della Settimana Santa si recheranno nel Palazzo Vescovile per un incontro di preghiera con il Vescovo della Dioce Sinissena. Lunedì 20 marzo il capitano e le cariche capitanali incontreranno il prefetto per la presentazione in prefettura alle 10. Nel pomeriggio invece, per la real maestranza, ci sarà un altro incontro di preghiera e momento di agape con i seminaristi, i responsabili del seminario e il rettore nel Palazzo Vescovile. Il 22, 23 e 24 marzo si prevedono tre serie di esercizi spirituali nel mondo del lavoro nella chiesa di Sant'Agata, organizzate dall'Ufficio Pastorale Sociale del Lavoro e che si concluderanno con la celebrazione eucaristica preseduta dal Vescovo Monsignor Mario Russotto, seguita dalla via Crucis cittadina. Si entra poi nel vivo della Settimana Santa con l'intronizzazione del Santissimo Crocifisso il martedì santo 4 aprile con la consegna del crocifisso in cattedrale da parte del parroco Gaetano Canarella, per poi spostarsi prima nella chiesa di San Giovanni per un momento di preghiera e infine nella chiesa di Sant'Agata per l'intronizzazione. Il mercoledì santo 5 aprile è il giorno della processione. La tradizione prevede che la real maestranza renda gli onori al capitano recandosi nella sua abitazione prima di spostarsi in centro storico. Il capitano una volta raggiunto il sindaco riceverà le chiavi della città e poi insieme alle autorità e la stessa maestranza in corte andranno verso la chiesa di Sant'Agata. Il giovedì santo 6 aprile si prevede la visita nell'istituto penale per minorenni, nella sede nissena del Luigi e della Lilt. Nel pomeriggio invece la real maestranza sarà presente in cattedrale per la santa messa in cena domini. Il venerdì santo 7 aprile si prevedono altre visite la mattina all'ospedale Sant'Elia, all'associazione Casa Famiglia Rosetta e in due case di riposo, mentre nel pomeriggio la real maestranza si unirà al corteo del Santissimo Crocifisso Signore della Città. Visita in programma anche il sabato santo 8 aprile per il capitano insieme alle cariche capitanali, capitani emeriti e l'associazione real maestranza. Gli stessi si recheranno prima nella casa circonderele di Caltanissetta, lì dove il capitano riceverà le chiavi dalla direttrice e poi si sposteranno nella sede del centro antiviolenza Galatea Ollus. La domenica di Pasqua 9 aprile un altro corteo partirà dalla cattedrale sino in via la regina Margherita. Alla fine della celebrazione il capitano restituirà le due chiavi a lui consegnate durante la settimana santa. Nel programma viene inserita anche la partecipazione della real maestranza alla processione dell'8 maggio di San Michele Arcangelo e di una delegazione della stessa durante quella del Corpus Domini l'11 giugno. E adesso parliamo anche della settimana santa san cataldese. E' già stata avviata la macchina organizzativa per la settimana santa san cataldese. Siamo felici di annunciare che sarà l'associazione amico medico ad organizzare l'importante manifestazione per le edizioni 2023 e 2024. Queste le parole del primo cittadino san cataldese gioacchino comparato espresse sui social per parlare dei riti pasquali. La decisione, ha aggiunto, è stata presa con delibera di giunta numero 13 del 2 febbraio scorso, in seguito a una comune volontà espressa da tutte le realtà associative. Non è la prima volta che l'amico medico viene investita di questo ruolo. Quest'anno lo fa con maggiore entusiasmo, sia perché veniamo fuori da anni di pandemia che in qualche modo hanno bloccato le manifestazioni per due anni e hanno reso possibile una manifestazione solo parziale lo scorso anno. Quindi quest'anno c'è molta attesa, c'è molta voglia di ricominciare e per questo motivo sono state coinvolte tutte le realtà associative e culturali ma anche gli appassionati che ruotano intorno al mondo della settimana santa san cataldese, sono tante, in modo tale da poter dare tutti un apporto e contribuire affinché si possa realizzare un programma ricco ed emozionante. La città lo sta aspettando, la città se lo merita. Si stanno definendo dunque gli ultimi dettagli per il programma di quest'anno. La parola d'ordine dell'amico medico è sempre stata il rispetto della tradizione e quindi sicuramente quello che sarà portato avanti è un programma di concerto con l'amministrazione ma anche e soprattutto con il clero e in particolare con l'arciprettura. Ma posso già dire che avendo sentito le diverse associazioni che hanno partecipato ad una prima riunione, un primo tavolo in cui abbiamo condiviso le prime impressioni, posso dire che ci sarà anno delle novità e il programma sarà ancora più ricco quest'anno. L'associazione che promuove attività culturali si è da sempre occupata di tradizioni. L'associazione amico medico nasce oltre 40 anni fa, quasi 43 anni fa, con l'obiettivo primario di recuperare i misteri, quelli che comunemente vengono chiamate bare, ma anche i San Paoloni, la tradizione famosa ormai che ha abbarcato i confini locali, che è quella dei San Paoloni. È nata per questo, ha negli anni fatto sì che queste tradizioni non venissero perse ma sono state rivalutate e rivalorizzate, ma poi adesso l'amico medico fa altro, fa anche altro, si occupa di aspetti culturali a 360 gradi, ma in particolare è legata naturalmente i riti della settimana santa. La settimana santa sancataldese è stata anche raccontata nel libro di Claudio Arcarese, San Cataldo, la città della scinnenza e dei San Paoloni. Perché abbiamo un programma molto intenso, molto variogato, che si basa, mi si concede di dirlo, su un testo che è quello della scinnenza, della discesa della croce, davvero importante, perché non tutti possono vantare un testo scritto da un autore locale ottocentesco. Il nostro è un testo davvero importante, che noi portiamo in scena da tantissimi anni, da quasi 147 anni. E adesso andiamo allo sport eccellenza. Nissa con la testa al Castellammare, l'Enna supera la Don Carlo 2 a 1 e balza in vetta alla classifica. La Nissa prepara la prossima partita casalinga contro il Castellammare, prevista domenica prossima al Tomaselli alle ore 15. Impegno importante per i biancoscudati, reduci dalla sconfitta sul campo della Mazzarese, la quarta nelle ultime cinque partite. Adesso i nisseni hanno assoluta necessità di punti per allontanarsi dalla zona play-out. Sono sette le lunghezze che dividono la Nissa dal quintultimo posto, occupato proprio dal Castellammare. I trapanesi arriveranno a Caltanissetta con un solo obiettivo, puntare all'intera posta in palio, proprio per ridurre il margine di svantaggio nei confronti della sest'ultima, la Leonfortese a quota 23 e della Nissa, una posizione più avanti in condominio con l'oratorio marineo. Una situazione non proprio esaltante, nella quale la Nissa si è ritrovata col passare delle domeniche caratterizzate da una sfilza di sconfitte, interrotta solo dalla vittoria sull'ultima in classifica, la Parmonval. Adesso i tifosi sperano in un successo che riporti la squadra in una posizione più tranquilla. Intanto, proprio oggi, l'Enna ha battuto la Don Carlo 2-1 al generale Gaeta, balzando in vetta la classifica a quota 51. Con due punti di vantaggio sull'Acragas, i gialloverdi credono fermamente nella promozione in Serie D. La classifica aggiornata. Enna 51, Acragas 49, Profavara 45, Don Carlo 40, Mazzarese e Mazzara 35, Sciacca 34, Casteldaccia 28, Oratorio Marineo e Nissa 25, Leonfortese 23, Castellammare 18, Resuttana 17, Gela 16, Cuspalermo 14, Parmonval 8. Bene, questa era l'ultima notizia per oggi. Non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ci rivediamo nelle prossime edizioni del telegiornale. Intanto vi lascio al Meto e le notizie di pubblica utilità e come sempre grazie per averci seguito. Amici di Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì. Chi vedrà ancora alta pressione sul Mediterraneo e su Italia, quindi condizioni meteostabili. Ricordiamo che avremo un gran bisogno di piogge in molte zone, soprattutto al nord. Per il momento non se ne parla. Le perturbazioni atlantiche non riescono a raggiungere il nostro paese. Solo qualche nuvola arriverà dal Mediterraneo occidentale. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia e vedete degli ammassi nuvolosi, ma in realtà di poco conto da ovest raggiungono il nostro paese, ma senza grandi conseguenze. Se controlliamo infatti le precipitazioni attese da noi, non vediamo nessuna macchiolina azzurra. Quindi ancora una volta, ripeto, non piove. Le cose potrebbero cambiare da metà della prossima settimana. Quindi ci attende un giovedì ancora con tanto sole, però qualche nuvola in più, soprattutto sulle regioni tirreniche, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, in parte anche le isole maggiori e qualche veatura transita anche sulle regioni del medio adriatico. Comunque, ripeto, senza precipitazioni, le zone di sereno non mancheranno e il clima diurno per il momento resta molto mite, con massime anche oltre i 15 gradi. Per sapere quando questa situazione si sbloccherà, consultate l'app di Trevi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta Servizio diurno, Pasqualino Via Xiboli, Villaggio Santa Barbara Servizio notturno San Pio X, Via Napoleone Colaianni